C'è ancora il sigillo su questa crema Ciao tesoro bentornata Come stai? Tutto bene? Ti trovo radiosa tesoro mio Come è passato queste feste? Già passato un mese quasi Alla grande mi fa piacere Beh bentornata nel mio regno dunque Bentornata tesoro lo sai che mi fa sempre piacere quando passi a trovarmi Stavo giusto sistemando e togliendo l'etichetta una crema nuova che mi è arrivata strabiliante Che voglio provare un po' sulle mie clienti E dato che ci sei oggi mi prenderò cura di te e la userò anche di te Cos'hai una serata di canna stasera? Facciamo un trucco elegante? Ok serata di canna importante Una cena di lavoro Tutte persone importanti Beh cosa indosserai? Hai deciso di indossare un tagliere per l'occasione? Ok Ma guarda io ti trovo sempre affascinante Sempre Non ho parole Ogni volta che ti vedo mi lascio incantata Sì sì anche senza trucco Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Vedremo assieme tutto ok? Ok Lo so lo so Lo sai già che i prodotti che uso io sono tutti antiallergici Qui puoi stare tranquilla Nel mio centro estetico non è mai successo nulla Perché utilizzo prodotti Uso prodotti naturali E quantomeno con meno Cioè che non hanno sostanze dentro Tipo parabeni Questa cosa qua Ormai lo sai Allora Voglio provarti Questa crema Favolosa Io l'ho provata su di me È fantastica Sei bella che struccata Vedo sia il viso pulito Adesso andiamo a mettere questa bella base per il trucco Ok Perfetto Andiamo Andiamo A casa tutto bene? I tuoi tenitori come sta? Anche a casa mia tutto bene? Anche a casa mia tutto bene? Anche mie e come bene? Beh allora questa per te sarà una serata importantissima suppongo giusto? Era da tanto che aspettavi questa serata? Capito? Capito? Beh dai i momenti giusti poi arrivano Ma dici che per te ci sarà una promozione? Quindi un salto di livello Quindi un salto di livello Grandioso 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 Senti com'è profumata questa crema? Benvenuti ok ok allora questa crema come vedi si stende benissimo comunque sono contenta per te ogni volta che ci vediamo mi racconti sempre cose belle cioè adesso stai per salire di livello quindi è fantastico è la massima soddisfazione poi volevo farvi provare un siero miracoloso colorato cioè è tipo un fondotinta veramente uniforme all'incarnato e correggere le imperfezioni l'ho provato qualche settimana fa su una cliente che mi era leggermente antipatica però ho pensato che fosse sbricato ma l'azzo di te no ecco qui questo siero bellissimo siero io lo trovo siccome tu hai il colorito molto chiaro trovo che questo nude per te sia perfetto va agitato va agitato prima dell'uso ed è veramente molto liquido si stende praticamente subito e oserei dire lo puoi puoi anche usare le mani nello stender perché è veramente molto liquido si stende bene con qualsiasi cosa forse io mi trovo meglio con le mani devo dire adesso lo proviamo su di te vedi com'è molto molto liquido e al 1% di acido ialuronico dentro e al 1% di acido ialuronico dentro e al 1% di acido ialuronico dentro si bisogna stare attenti alla quantità di di siedro che si infiega e al 1% di acido ialuronico dentro adesso mi aiuterò con la spugnetta con la spugnetta con la spugnetta con la spugnetta ok si stende che è una meraviglia ok adesso passiamo al trucco per proprio passiamo proprio all'ombretto questa palette magica la definisco così è il trucco che indosso io vedi è il trucco che porto io ti stai rilassando mi fa piacere ok 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 allora iniziamo da qui con un colore un po' più chiaro all'interno della palpebra mobile qui qui ok ok portiamo da questo colore chiaro qui anche di qua bene 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 ok bene 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 poi vorrei metterti questi due colori qui sfumarli insieme inizia da questo sul marrone sulla parte finale della palpebra superiore quella mobile sfumo 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 un po' più in alito sfumo 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 un po' più in alito ok e anche di qua ok ok bene bene poi passiamo al nero passiamo al nero con il nero andiamo un po' a chiudere 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 ok sei fantastica con questo makeup guardati allo specchio come ti vedi io ti trovo veramente molto carina e il trucco che fa per te questo è più o meno simile al mio sì più o meno allora per questa serata di gala tu vorresti mettissimo anche le ciglia finte o andiamo direttamente di mascara? ok vuoi sembrare il più naturale possibile va bene allora mettiamo solo il mascara sapevo avresti detto solo il mascara non c'è nulla di male no? però ti conosco come sei fatta vuoi curarti nei punti giusti e non esagerare troppo lo so ok vediamo mettere un po' di blush un po' di illuminante e infine un bello assetto che è quello che porto io ok ok up 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 matita labbra rossetto e lucido ora andiamo a mettere allora io trovo questi make up della Yuda Beauty favolosi ecco qua rossetto Yuda Beauty matita labbra Yuda Beauty i lip gloss Yuda Beauty eccolo qui è un silk balm è fantastico che dire è proprio di questi colori gangianti che vedi sul packaging ecco adesso no non c'è bisogno di temperarlo vedi così stai un po' ferma perché devo delineare il contorno labbra ok bene 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 non c'è bisogno non c'è bisogno di più non c'è bisogno di più non c'è bisogno di più com'è bello questo rossetto guarda vedi no io lo trovo anche nella sua confezione fantastico cioè io odoro i rossetti così me ne sono innamorata subito però l'ho visto poi la chiusura è a calamita quindi è roba veramente fantastica ok bene è un effetto matta quindi possiamo subito applicare questo non deve asciugare perché come hai visto quello è un rossetto matta ok mamma mia sei radiosa sei stupenda guardati allo specchio che ne dici sono emozionata io per te non abbiamo ancora finito perché ti devo mettere il blush e poi un po' di illuminante diamo di blush di blush di blush di blush di blush da questa parte qui da quest'altra parte qui ok adesso prendo il pennello per l'illuminante tutto Ecco, sei fantastica, bellissima, beh allora il risultato finale, ti piace? Lo so che rimani sempre soddisfatta quando vieni qua da me, mi fa sempre piacere vederti, passa quando vuoi a trovarmi Anche solo per prenderci un caffè assieme qui in studio Ok tesoro mio, io ti auguro una fantastica serata e auguri per la tua eventuale promozione che credo verrà sicuramente Ciao piccola, ci rivediamo la prossima volta, ok? Non ti preoccupare per la cassa di là Un bacio tesoro, fammi sapere come vai Attento notizie, ciao